Il druido è una delle classi di personaggio disponibili nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons, quinta edizione. Il druido è un custode della natura e un manipolatore della magia che trae potere e ispirazione dall'equilibrio degli ecosistemi naturali. I druidi sono caratterizzati dalla loro profonda connessione con la natura e la capacità di assumere forme animali. Sono in grado di manipolare le forze della vita e della morte, curando gli alleati e danneggiando i nemici. Possono evocare elementi naturali come piante, animali e tempeste per aiutarli in battaglia e nel corso delle loro avventure. Una delle caratteristiche distintive dei druidi è la loro abilità di trasformazione. Possono assumere le sembianze di animali diversi, come lupi, orsi, uccelli e molti altri. Questa trasformazione conferisce loro nuove abilità e attributi, consentendo loro di affrontare una vasta gamma di situazioni in modo creativo. I druidi possiedono anche un forte legame con la magia della natura. Hanno accesso a un ampio repertorio di incantesimi che possono utilizzare per curare, proteggere o infliggere danni ai loro avversari. I loro incantesimi sono spesso basati su elementi naturali come il fuoco, l'acqua, la terra e l'aria. Un'altra caratteristica importante del druido è la sua capacità di comunicare e influenzare gli animali e le creature della natura. Possono parlare con gli animali e ottenere informazioni o aiuto da loro. Inoltre, hanno la capacità di influenzare il comportamento degli animali e addomesticarli, rendendoli dei fedeli compagni durante le avventure. I druidi sono anche molto abili nel sopravvivere in ambienti selvaggi e ostili. Possono raccogliere cibo dalla natura, trovare rifugi sicuri e muoversi con destrezza attraverso foreste, paludi e montagne. Sono in grado di individuare tracce e segni nella natura e utilizzarli per orientarsi o rintracciare nemici. I druidi scelgono un cerchio, una specializzazione, che definisce ulteriormente il loro ruolo e le loro abilità. Ci sono diversi cerchi tra cui scegliere, come il cerchio della terra, che si concentra sulla difesa e sulla connessione con gli elementi naturali, o il cerchio della luna, che potenzia le abilità di trasformazione del druido. Inoltre, i druidi sono spesso associati a una filosofia di protezione e preservazione dell'equilibrio naturale. Sono motivati a difendere la terra e i suoi abitanti, spesso opporsi alle forze che minacciano la natura stessa. Questo può portare a interessanti trame e interazioni con altri personaggi e il mondo di gioco. In conclusione, il druido è una classe molto versatile e potente in Dungeons & Dragons. Con le sue abilità magiche, la trasformazione animale e la connessione con la natura, il druido offre molte opzioni tattiche e di gioco interessanti. È una scelta eccellente per i giocatori che amano esplorare l'ambiente naturale e il potere della magia nella loro avventura di gioco. Per creare un personaggio druido in Dungeons & Dragons, quinta edizione, dovrai soddisfare alcuni requisiti. Ecco cosa devi considerare. Caratteristiche primarie. I druidi dipendono principalmente dalla caratteristica del saggezza WS per le loro abilità e incantesimi. Assicurati di avere un valore di saggezza elevato per massimizzare l'efficacia delle tue abilità. Abilità iniziali. I druidi iniziano con una serie di abilità che riflettono la loro connessione con la natura. Queste abilità includono arcana, medicina, natura, percezione, religione e sopravvivenza. Puoi assegnare punti alle tue abilità in base alle priorità del tuo personaggio. Equipaggiamento. I druidi iniziano con un piccolo assortimento di equipaggiamento. Di solito hanno un'arma semplice, come un bastone o una falce, un'arma da lancio, come un pugnale, un incantesimo focaio, un set di strumenti druidici, solitamente un simbolo druidico o un oggetto legato alla natura, e un pacchetto esploratore. Per quanto riguarda le razze più adatte per i druidi, ci sono diverse opzioni che possono ampliare e sottolineare il tema della connessione con la natura. Ecco alcune delle razze più comuni scelte dai giocatori per i loro personaggi druido. Elfi, gli elfi, come gli elfi della foresta o gli elfi delle nubi, sono spesso scelti per la loro affinità con la natura e la loro agilità. Ottengono bonus alla destrezza e saggezza, che sono utili per un druido. Gnomi, gli gnomi, specialmente gli gnomi delle foreste, sono noti per il loro amore per la natura e la loro abilità di comunicare con gli animali. Possono essere una scelta interessante per un personaggio druido grazie ai loro bonus a saggezza e intelligenza. Mezzelfi, i mezzelfi sono nati dall'unione di umani ed elfi e hanno un'affinità naturale con entrambe le razze. Hanno bonus a saggezza e carisma, e possono essere una scelta equilibrata per un druido che desidera avere una connessione sia con gli umani che con gli elfi. Umani, gli umani sono sempre una scelta valida e flessibile per qualsiasi classe, compreso il druido. Non hanno bonus razziali specifici, ma ottengono un bonus a tutti i loro attributi. Puoi personalizzare il tuo personaggio druido in base alle tue preferenze. Firbolg, questa razza introdotta nell'espansione Volos Guide to Monsters, è particolarmente adatta a interpretare druidi. Ai Firbolg sono grandi, pacifici e hanno una forte connessione con la natura. Ottengono bonus a saggezza e forza e hanno abilità innate che favoriscono la comunicazione con le creature naturali. Tuttavia, ricorda che la scelta della razza è principalmente una questione di preferenza personale. Puoi creare un personaggio druido unico e interessante con qualsiasi razza, quindi non limitarti solo a queste opzioni. Sii creativo e divertiti nella creazione del tuo personaggio druido. Ci sono diversi esempi di druidi famosi in film e libri che hanno catturato l'immaginazione dei fan di Dungeons & Dragons e dell'immaginario fantasy. Ecco alcuni esempi notevoli. Gandalf, il Signore degli Anelli, sebbene non sia tecnicamente un druido nel contesto di Dungeons & Dragons, Gandalf il grigio è spesso associato alle caratteristiche e alle abilità tipiche di un druido. Con la sua conoscenza della magia, la capacità di comunicare con creature naturali e il suo ruolo come custode della terra di mezzo, Gandalf incarna molte delle qualità druidiche. Panoramix Jetafix Asterix Nel famoso fumetto di Asterix, Panoramix è il saggio druido del villaggio gallico. È conosciuto per la sua abilità nella preparazione della pozione magica che conferisce una forza sovrumana ai suoi compagni. Panoramix è un esempio iconico di druido, con la sua conoscenza delle erbe e la sua connessione con la natura. Willow of Good Willow, nel film Willow di Von Howard, il personaggio di Willow of Good è un nano apprendista di magia. Ma molte delle sue abilità e del suo ruolo richiamano le caratteristiche di un druido. Willow mostra un'innata connessione con la natura e la capacità di utilizzare incantesimi per manipolare il mondo circostante. Druidi nella serie cronache del ghiaccio e del fuoco. Game of Thrones nella saga letteraria di George R. R. Martin e nella sua adattamento televisivo Game of Thrones. I druidi sono presenti nella forma degli uomini verdi. Essi sono custodi dei boschi sacri e hanno una profonda connessione con gli alberi e la magia naturale. Essi possiedono abilità come il controllo mentale degli animali e la capacità di scrutare i ricordi degli alberi. Merlino, le leggende arturiane. Merlino è una figura leggendaria associata alle storie del re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda. Pur variando nelle diverse versioni, Merlino è spesso descritto come un potente stregone con un forte legame con la natura e la capacità di trasformarsi in varie forme. Le sue abilità magiche e la sua saggezza riflettono spesso le caratteristiche di un druido. Questi sono solo alcuni esempi di druidi famosi nella cultura popolare. Ci sono molti altri personaggi druido presenti in vari film, libri e giochi che offrono differenti interpretazioni e sfumature di questa classe. La classe del druido può essere adatta a diversi tipi di giocatori, a seconda delle loro preferenze e stili di gioco. Ecco alcuni tipi di giocatori che potrebbero trovare la classe del druido particolarmente interessante. Amanti della natura. I giocatori che apprezzano la bellezza e l'importanza della natura potrebbero trovare nel druido una classe perfetta per esprimere la loro passione. I druidi hanno una connessione profonda con il mondo naturale e possono essere impegnati nella protezione e nella cura dell'ambiente circostante. Ruolisti versatili. I druidi sono estremamente versatili grazie alla loro capacità di assumere forme animali e al vasto repertorio di incantesimi a loro disposizione. I giocatori che amano avere molte opzioni tattiche e che godono di una vasta gamma di abilità e risorse da utilizzare durante le avventure troveranno nel druido una classe soddisfacente. Esploratori e sopravvissuti. I druidi sono abili nell'affrontare ambienti selvaggi e ostili. Possono trarre vantaggio dalle loro abilità di sopravvivenza, trovare cibo e rifugi naturali e muoversi con agilità attraverso foreste, paludi e montagne. I giocatori che amano l'esplorazione e la sfida delle ambientazioni selvagge potrebbero trovare grande soddisfazione nel giocare un druido. Amanti degli animali. I druidi hanno la capacità di comunicare con gli animali e di addomesticarli. Possono avere animali compagni fedeli che li accompagnano nelle loro avventure. I giocatori che amano la compagnia degli animali e che sono affascinati dall'idea di interagire e utilizzare creature naturali troveranno nel druido una classe molto appagante. Appassionati di magia naturale, i druidi sono maestri della magia della natura, manipolando le forze degli elementi e degli esseri viventi. I giocatori che sono affascinati dalla magia naturale, come il controllo del fuoco, dell'acqua, della terra e dell'aria, e che amano utilizzare incantesimi che riflettono i cicli e l'energia della natura, si sentiranno attratti dalla classe del druido. In generale, il druido offre molte opportunità di gioco e di esplorazione sia in termini di meccaniche di gioco che di ruolo. Soddisfa i giocatori che amano la natura, l'esplorazione, la versatilità e la connessione con il mondo naturale. Grazie 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 Grazie